Buongiorno a tutti da Asa Eter, siamo qua in compagnia di Diana, che ha un bellissimo incrocio tra un lupo cecoslovacco, giusto tua mamma, e un pastore tedesco. Ora, per meglio comprendere la sua etologia, la lasceremo libera, letteralmente, di esprimere ciò che vuole. Ma ora, dato che c'è qualche mio parente, probabilmente correrà l'impazzata. Quindi ora facciamo un primo piano, e praticamente, come vedete, si presenta come un cane molto ben bilanciato, dalla struttura fisica equilibrata, senza eccessi. Infatti è una bella silhouette, no vabbè, lasciamo stare questi dettagli. Comunque, il comportamento è molto simile a quello di un lupo, anche se non è proprio un lupo cecoslovacco, comunque, è un incrocio, però il sangue lupino è presente. E ora, forse meglio se la tengo al guinzaglio, anzi, perché altrimenti correrebbe troppo. E niente, allora lei ha quasi nove anni, li compie il 15 maggio, beh, di quest'anno, del 2017. Ne compie nove, vedete, con noi da quando aveva circa due mesi. E appunto siamo qua nei campi, cioè, come vedete, ci sono i ciliegi che stanno per germogliare, cioè, ci sono i germogli. E verso fine marzo, inizio aprile, appunto, avremo una bellissima fioritura bianca. Ora riprenderemo Diana mentre fa una piccola corsa. Vai Diana, corri! Come vedete, è un po' difficile starle dietro, nonostante la voglia di correre in me non manchi. Comunque...